Ciao a tutti, saluto tutti, in particolar modo tutti gli ascolani in giro per l'Italia e per il mondo. Quest'anno, il 23 dicembre, alle ore 10.30, in Sala della Vittoria, nella nostra Pinacoteo, organizziamo una grande riunione con tutti gli ascolani che studiano o lavorano in giro per l'Italia e per il mondo. Quindi siete tutti invitati. Questo incontro ha tre finalità. La prima, creare un network, quindi creeremo un gruppo Telegram per mettere dentro, condividere idee che magari vengono viste in altre città per migliorare la città di Ascoli, quindi riportare le buone esperienze. Il secondo è quello di avere spunti da chi vive fuori sull'ambito lavorativo per aumentare e migliorare l'offerta lavorativa e per far tornare qualche ascolano e per non far andare via nuovi giovani ascolani. Il terzo è quello della promozione turistica di Ascoli, quindi chi vive fuori anche in giro per l'Europa e può promuovere il territorio ascolano attraverso un progetto. Quindi realizzeremo un concorso di idee da dicembre fino a marzo e poi il progetto migliore di promozione del territorio viceno lo finanzieremo con un premio e quindi verrà premiato il miglior progetto. Quindi chi vedrà questo video potrà venire alla riunione il 23 dicembre alle 10.30 in Salle della Vittoria e chi ovviamente non può venire perché non torna ad Ascoli per le vacanze si potrà collegare nel link che gireremo e metteremo qui tra i commenti e ovviamente tutti gli ascolani che hanno parenti, figli o nipoti in giro per l'Italia o per il mondo può segnalare questo video e può invitarli per il 23.30.